Sì, ciao, il mio nome è Svito. Io vorrei cercare di dirvi una cosa. È tutta la vita che sto cercando un po' di coerenza e ho avuto sempre molta pazienza. Vi chiedo solo se mi ascoltate e poi mi dite se mi capite. Devo capire se sono svitato, se sono così un po' malandato. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.